Ciao a tutti nel tubo, sono c'è un buonissimo video, oggi sono qui con i miei di Marci e di Eren Ciao a tutti Io ci sono anche Ah e anche Martina E siamo qui in questo nuovo video di questo nuovo minigame che si chiama The Ender Raga in questo videogioco, in questo minigioco appunto imiteremo lo Slender Quindi uno sarà lo Slender e dovrà andare a uccidere gli umani Quindi mi raccomando seguitelo bene per sapere come funziona Mi raccomando lasciate like a questo video e iscrivetevi se ancora non siete iscritti Cliccate il pulsante rosso per farlo diventare grigio Noi siamo in partita Buona visione Ho bisogno di togliere il creeper dietro la mia skin, vorrei mettermi uno zaino Girati, girati Raga mettete uno zaino alla skin di Marci Raga Oddio quanto è bello essere Oh c'è una pagina Sono spawnato vicino una pagina Bello me lo segno Ne hanno già prese due Salve Come ne ho fatto mettere già due Allora come si fa a spawnare vicino Oh Salve Buongiorno Guardami 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 Sono bellissimo hai visto quanto sono bella Ma com'è raga scusatemi Sì vabbè 27 Dai raga non fate gli iiiiee Iiiiee Cioè raga l'unica volta Allora non ha mai vinto lo slender L'unica volta in cui lo faccio io trovate tutte le pagine alla prima botta Non è normale E poi leftano Bellissimo E poi leftano Eh ti è andato giusto fastidio e poi se ne vanno Oh ciao iii atlas Uè bello Eh raga però è troppo facile in questa partita uccidere persone Cos'è? Eh sono lì che non fanno niente Oh ho visto Raga il camper dov'è? Marci Martina che noia Quanto siete belli Oh Charlie devi lasciare in pace Non mi piace Oh a noi per ultimi devi cederci Sì 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 eh Però intanto siete belli Cioè giusto per dirvelo Raga 5 minuti Ciao Marti No 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 Ciao Eren come stai? Dove sei? Non lo so Ciao Ciao Raga guardate la chat No Mi hai preso E basta raga veramente Cioè cos'è sta roba? Raga siamo ancora in sei Vai che la riamo questa Charlie Eh ma non vale raga quando Eh sì ma le gente è quinta Eh fanno bene Minchia Siamo solo noi Quando faccio io l'umano nessuno che trova mai una pagina Nessuno Ma io ne ho trovato due però eh Faccio io lo Slender? Oh mio Dio È tutto pieno di robe Oh quante pagine Vabbè ciao Eren Ti lascio stare Ciao Sì ma davvero mi devi lasciare Ok inizio ad abituarmi al jumpscare Weee Ma raga Marci Raga Marci Raga Marci è buggato Charlie vai via Io no Per ultimo Eh No dai Charlie Prima ci hai messo Voglio solo farti male Dai Niente Volevo solo farti un po' male Ma perché c'è una nausea What? Però ti volevo Ti seguo Ma ci ti va se ti seguo un po' Finchè non mi dai il teleporter Giusto così per Ok mi ha teleportato Sono vicino a Oh Ciao Cat Cat Come stai qui? Ho avuto un jumpscare E non mi ha fatto né caldo né freddo Guarda grande Eren Raga questo qua scappi Uè Bello Uè Simo Simo Marti nella foresta Raga mi sa che questo qui non sa come si gioca Vabbè Vabbè Ok L'ho ucciso L'avete già trovata? È rimasto solo Matthew e voi tre Raga Matthew e voi tre Ve lo dico Io cercare Matthew Sincera Sincera al cento per cento Ah le stai laggando Non sto laggando Non dire bugie Charlie se sei una mica vera Vai da Matthew Eh raga lo devo trovare Dipende dal teleporter No dipende dall'amicizia Ma il cimitero l'avete già trovata Aia Dipende da Matthew raga Ciao lì Lasciami in pace Ma non sto facendo niente oh Sono da Matthew Ma come ti permetti? Come ti permetti tu? Raga 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 Matthew mi killa raga Come Matthew ti killa Come perché mi può killare Matthew? Raga Mi sa che è tipo il VIP What? Che fastidio Ma stai scherzi? No raga Raga ho quattro cuori Senza senso Mi avvicino e perdo cuori Raga io me ne vado Non guardarlo Raga Raga Mettio mi killa È più slender di me Eh mi sono teletrasportata via Che stai scherzando Mettio mi ammazza No raga no Mi voglio uccidere se ti ammazza E come faccio a ucciderlo se mi ammazza Scusami È un problema tuo Martì Rido un botto Martì Sto ridendo tantissimo Vabbè non dico niente Perché? Non dico niente Eh ma ogni volta che clicco il teleporter Mi teleporta da Martina Ma basta Comunque rido perché Ma sei in pace Hai balzato tantissimo una pagina Cioè ci sei passata proprio a fianco Qualcuno giuda Charlie la devi smettere Che vuoi da me se mi teleporta da te Scusami Cosa ci devo fare? La devi smettere Ma l'entrata sono andato su percento A data percento A vedere gli screen dove erano le pagine Quella che Che merda Eh vabbè Non so dove Una su dove ma non so Ma così non vale Scusate raga Io non ho fatto gli screen Charlie Allora ho uno screen dove c'è un sacco di alberi E una pagina Come faccio a trovarla? Eh ma perché non hai messo F2 Pure tu Cioè ma scusa Devi mettere le coordinate F3 al massimo Ciao Devi uccidere prima Mettio Ma Mettio Mi ammazza raga Mi toglie cuori Mettio E poi non lo trovo E' impossibile Che toglie cuori eh No no ma raga Eren se ti sei camperato T'ammazzo No T'ammazzo Eren No T'ammazzo Dai Charlie Charlie Prima Mettio Hai detto Dai Eh ma Mettio Non lo trovo raga Ma non sto scherzando E fai la persona seria però Dai non fa la cacca Su Sono teleportata ma non c'è nessuno Vabbè Perfetto ecco Adesso vai via da me Non è che non c'è nessuno È che non mi trovi Dai Eren scendi dagli alberi Non sono sugli alberi Eh sei nascosto sicuramente No sono sugli alberi Eh appunto Dai Eren scendi Sto facendo parkour In cerca delle pagine Eren dai Ti ho visto Sei lì Uh uh Ciao Ti scelto Ti scelto Vabbè Tanto Eren Poi ti faccio disiscrivere Dal canale No Ma chi è che fa casino Oh Oh Ma che io Sei tu Marci Smettila No no Ferma Eh c'è qualcuno Che faceva casino Sono io Ma Mettio scomparso raga Non mi tippa da lui Vi giuro Mi tippa da tutti Ma tranne che da lui E capita Raga ma le pagine Ci stiamo lavorando Eh tu Eren Fai la scimmia Scusami anche tu eh Senti Arambe Non è solo Una parola eh Mi sa che mi ha tippato Di nuovo da Marci Ma chi è che fa casino Raga Ma che è sto casino In effetti Sei tu Martina Ma casino No è Marci È Marci Ma che casino faccio Raga che non sto neanche Usando la tastiera Sto guardando con la Sul mio ultimo video Che No casino fai tipo Ma che state dicendo A me Te lo giuro Stai un attimo Zitto Ci sente Sì Marci Ce l'hai fisso attivo Che cazzo Eren scendi dagli alberi Raga il jam scaramello Non è venuto fuori Non sono io eh Eren Raga allora Un numero uno Matthew è scomparso Non mi tippa da lui Zero proprio Poi Eren è sugli alberi E non posso ucciderlo Se vado da Marci Marci si arrabbia Perché non posso ucciderlo Se vado da Martina Martina si arrabbia Perché non posso ucciderla Mi spiegate io In questa partita da Slender Cosa dovrei fare Suicidati Lasci vivermi Faresti una cortesia Però se vuoi uccidermi Uccidimi Dai ciao Eccola Matthew Eccolo Oh Raga state cercando Ste pagine Io le sto cercando Cosa vuoi Da mia vita Matthew vieni qua Matthew Sei inutile Sentito io una L'ho trovata Raga Matthew Vuole picchiarmi Raga Raga Matthew Ti vengo ad aiutare Charlie dove sei Niente è morto Ma come Non pensavo niente Sono morto Ho detto no Ma infatti L'ho acquistato Non riesco a morire Come Slender Ci pensi Sono così sfigata Che riesco a morire Anche come Slenderman Eren Maledizione Se adesso non scendi Dagli alberi No io non scendo Dagli alberi Dai Eren Ma tu non stai neanche Cercando le pagine Perché sei sugli alberi Vaffanculo No non è che Magari è un diversivo E sono già in giro No Infatti no Perché ti ho visto Invidiamoci Raga A me con me Il Frozen Non funziona Comunque Vi dico solo questo Io vi dico solo Non sono sulle pagine Ah io Charlie Moon Dimmi Smettila No Sei una maleducata Anche tu Charlie Broom No Ma se io mi shifto Lei mi trova? Sì No Sì No Non vede il nome sopra Eh vabbè Ma non devo vedere il nome Io mi tippo Ma tu ti tipi a 20 blocchi di distanza Non è giusto Ma ogni volta vedo Oh grazie Dai Charlie Dimmi Fai schifo Ok Ma vieni qua Martina No No adesso cerchiamo di uccidere Martina Raga A me Martina fa ridere un botto Raga Non ci posso fare niente Un fottio ti fa ridere Ti fa ridere un fottio Troppo Raga ma perché non carica un po' le torce Ma io non ho mai trovato una pagina negli alberi Sapete Io si Martina ma la smetti Ma non riesco Ma la smetti Martina Aspetta i capelli Raga di me Raga ma light map di tearless Ma ti stai fai Eh vabbè Ma raga Martina Ma teleportati dagli altri Ma cosa vuoi della mia vita No ci riprima lei Già che sei lì scusa Ma vai da Eren Ma perché Ma erene sugli alberi Infatti ma perché non va mai da Eren Perché erene sugli alberi Tu sono sugli alberi Che venga Ogni volta Ogni volta che mi tippavo da uno Minchia Martina Ma Charlie la devi smettere Hai capito Hai solo malato le palle Raga ma io mi sono preso l'armatura del tizio Viola Comportati bene Più lunghi sti jumpscare però No aspetta Charlie riesce a venire da me senza chillarmi un attimo Aspetta aspetta Credo di aver trovato la mappa La mappa Raga mi state facendo per scadere il tempo Cioè vi picchio Martina ti stai ferma figa Raga sugli alberi Ah raga C'è successo un bug ok No Ti fai schifo ti odio Eh ma siete rimasti voi eh Cioè Raga Raga Calma un attimo Allora io vi dico solo una cosa Eh Sono Avete No Charlie no No scusa non hai capito che avevi un cuore Non dovevo ucciderti Ma non volevo ucciderti Mi stavo mettendo avanti per capire cosa volevi dire Ero diventato quello che faceva il jump Che avevo la leather Tutta l'armatura di leather Eh ho visto che eri tutta viola Era tutta viola Ma non avevo neanche il Ah quindi è un giocatore quello che fa il jump A quanto pare si No raga È uno che è il Il piedistallo che c'è lì Come se Eren Posso farti un regalo? No Dirati Voglio regalarti questi 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 boot No Oh no Eren No 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 Lasciami No Non puoi Non vale Non è valido Perché non è valido? No Raga io sto ammazzando Eren Perché lui cerca di scappare sugli alberi Come il vero arambe che è in lui Non mi sparerai questo bambino È mio Raga Raga è qua Raga ce l'ho quasi fatta Quanti cuori hai Eren? Sette Eren Sì non è vero mai nella vita Te ne ho tolti un bordello Sto recuperando Non è vero Questo slender Wow Boom Va bene ragazzi Spero che questo video vi sia venuto Mi raccomando Iscrivetevi ai canali Di questa gangbang Che sta succedendo qui Lasciate un like Noi ci vediamo il prossimo video Ciao a tutti ragazzi Ciao Bella